bene amici di hd blog idol alfa di alcatel sta girando questo questo video a il fuoco continuo questo è il pan veloce ci proviamo a mettere la situazione di contro sole finalmente un sole pauroso a milano in in questi giorni è finalmente scoppiata l'estate dopo tanta acqua qua torniamo su una macro e ora torno velocemente a un fuoco più lontano per vedere la velocità di messa a fuoco che mi sembra notevole facciamo il solito zoom andiamo a aumentare al massimo dovrebbe essere un 4 per questo è lo zoom massimo torniamo torniamo indietro con un pinch out sul sul display e ora mi fermo un attimo sulla via che però è desolatamente vuota si vede che è iniziato il caldo e che siamo a luglio vediamo se riusciamo a trovare a pescare qualcuno che passa per vedere il movimento che mi fermo un attimo qua coppia con cane ripeto video che sto girando da alcatel idol alfa